Spiega che la sua lista è stata costruita per poter avere una rappresentanza il più completa possibile tenendo conto delle caratteristiche anagrafiche, territoriali e delle trasformazioni della società negli ultimi 10-15 anni con anche il coinvolgimento di cittadini nati in paesi stranieri. Mentre per quanto riguarda il programma elettorale, il candidato sindaco di Viadana Democratica Silvio Perteghella punta innanzitutto sugli investimenti pubblici, ma sono diverse le azioni a cui pensa per la ripresa post-Covid a Viadana uno dei territori mantovani maggiormente colpiti dalla pandemia che, spiega il candidato, ora va gestita con alcune azioni precise. Dobbiamo puntare sicuramente alla ripresa, per attivare politiche del lavoro saranno necessarie politiche di investimento quindi noi abbiamo costruito un programma orientato agli investimenti pubblici. Il Covid però non è un pericolo superato, nel prossimo autunno-inverno si dovranno attivare politiche di screening presso i potenziali cluster e aree demografiche a rischio, quindi sulla popolazione anziana, sulla popolazione in età scolastica, questo per tutelare la salute pubblica. Non vi è profitto senza salute. In particolar modo, tornando agli investimenti, credo che sarà assolutamente necessario attivarsi non soltanto per la realizzazione della gronda nord, ma anche per avere progettualità che riguardano le frazioni nord. Periferisco quindi ad una migliore viabilità per l'area industriale di Cizzolo, con attraversamento verso la strada provinciale senza passare per l'abitato di Cavallara e una progettualità alternativa a quella che propose l'ex assessore regionale Fava qui sull'area di Torredoglio. Voglio ricordare che l'ex assessore regionale Fava promuoveva una diga che non risolve i problemi di sorveglianza, di manutenzione ordinaria e straordinaria che gravano pesantemente sui bilanci della provincia. Credo che si dovrà realizzare un progetto di viabilità alternativa per valorizzare contemporaneamente quel ponte e quest'area, quindi lasciare il ponte in chiatte ciclabile e individuare anche un piccolo lido per la valorizzazione turistica dell'area. Voglio aggiungo che qui a Foce Olio, in quest'area, inserita nel parco regionale Olio Sud, è presente una greenway e quale cappello migliore avere un ponte in chiatte che sia totalmente ciclabile. Pertegalla pensa anche ai giovani a come trattenerli a Via Dana, dando loro la possibilità di un lavoro ma anche offerte di carattere ludico e culturale. Nel programma c'è poi anche la riqualificazione del centro. Bisogna creare quelle condizioni che aumentino i flussi di persone verso il centro. Per cui abbiamo individuato 4-5 aree di intervento. La prima, il miglioramento dell'area d'urbano. A tal proposito abbiamo realizzato un piccolo rendering che introduce del verde all'interno di Piazza Manzoni. Poi, piano regolatore. Per quanto riguarda le unità commerciali che sono ubicate fuori dai centri, l'individuazione di incentivi economici per la riconversione in aree residenziali. Poi, introdurre la sosta gentile, prima mezz'ora gratis, per favorire il commercio take-away. In più, sul carro affitti del centro storico viedanese, l'introduzione di un canone convenzionato, quindi sconti IMU, per chi introduce una riduzione del 20-30% sul canone di locazione che pagano i conduttori, quindi i commercianti, coloro i quali tengono vivo il nostro centro cittadino.